Salve a tutti ragazzi e ribentornati da Antoshio, alleniamo i duellanti solo più belli, più ricchi, più forti di Yu-Gi-Oh! E vi do il bentornato in uno dei nostri mazzi in cui vi faccio vedere i mazzi più schifosamente forti di Yu-Gi-Oh! Allora, trap tricks, cominciamo perché è veramente bello, normal di trappolatrice mirmero, ok? Immune agli effetti delle trappole, bla bla bla, ho subito creato la signorina trappolatrice sera, serve un mostro non link trappolatrice, questo ragazzi è un mazzo veramente molto forte che, soprattutto per le persone che stanno cominciando, ricominciando a giocare, che hanno del budget perché sono persone di alto livello, le persone a cui noi normalmente ci rivolgiamo, è veramente fortissimo, bellissimo, immune dalle trappole e in più, attivato l'effetto di un mostro trappolatrice, posiziona una trappola normale, buco trappola, che vogliamo, quindi buculotea, andiamo a mandare al cimitero evenly matched, che è una trappola veramente molto forte che dobbiamo avere in questo mazzo, nella nostra build è veramente devastante, molto carina, adesso vi spiego tutto ragazzi, tranquilli. In questa lista veramente c'è la crema della crema, come vedete si giocano di main delle carte molto molto forti, chiaramente per la lista, sapete bene, potete entrare nel nostro gruppo gratuito, potete entrare nel nostro gruppo esclusivo, il gruppo dei campioni over, insomma, noi siamo qui per voi sempre in tutte le sfaccettature. Allora, buculotea che entra sul terreno, effetto di sera, no? Quindi andiamo intanto a evocare la bellissima mantis, effetto di mantis che ci fa tornare nella mano la signorina barriera dimensionale, tutto questo per attivare l'effetto di sera che ci fa settare buco trappola, terrificante incubo. L'avversario evocante, uno più mostro in questo turno, ci fa scegliere come bersaglio un mostro controllato, un duemilo superiore e lo distruggiamo. Se abbiamo un buco nel cimitero, bagniamo un mostro dal cimitero dell'oppo, tanta roba, no? E in più abbiamo il signore qui, abbiamo messo Redoer, abbiamo messo barriera dimensionale, abbiamo messo buco trappola chiuso. Beh, tanta roba, no? Perché Redoer? Questa è una carta molto forte che, una volta del turno, durante la standby, possiamo attaccare una carta del deck dell'avversario, effetto rapido, possiamo staccare fino ad altri tipi di materiali da questa carta. Se abbiamo bannato un mostro, bagniamo questa carta final end face, una trappola, mettiamo in cima al deck una carta scoperta controllata dall'avversario, come vedete, tanta roba, no? E in più, soprattutto, abbiamo tante interruzioni. Ti faccio vedere questo mazzo perché è veramente molto molto forte e per cominciare, veramente, ti dà tanto tanto valore, soprattutto se sei un duellante a cui piace giocare controllo. Sai che a me mi piace Antometa, a me mi piace, veramente stupendo, ok, ottimo. Tanta roba, insomma, io sono molto molto affezionato a questi mazzi che non permettono nulla all'avversario e questo sicuramente è una grandissima soluzione. Ah, abbiamo anche Ashe nella mano, la regina dell'entrap, che possiamo mandare direttamente al cimitero se controlliamo casino. Vedi, effetto di Redoer, sono andato a staccare una trappola e ho tolto labirinto labrinto al nostro avversario, che tra l'altro sta giocando labrinto, quindi è un mazzo molto forte, tra l'altro control sulla carta abbastanza devastante. Ok, abbiamo utilizzato quindi l'effetto del signor Redoer, quindi sera, cioè è andato a evocare direttamente Mirmelo. Effetto di Mirmelo, attenzione, l'avversario utilizza Tributo Torrenziale per andarci a distruggere tutti i mostri. Effetto ovviamente di sera, perché noi abbiamo la priorità, andiamo a mettere il buco trappola dello scavatombe. Non succede nulla, vedete? Tranquillamente. Tutti immuni dalle trappole. Rientra Mirmelo, effetto di Mirmelo, andiamo a distruggere il buco. Benissimo, molto bene, no? Attenzione, l'avversario utilizza per due volte, tra l'altro si è arrabbiato proprio, il dispositivo di salvataggio obbligatorio con cui avrebbe dovuto far tornare nell'extra deck la nostra sera. Ma lei è immune. Ragazzi, con questo mazzo voi continuate a piazzare trappole che fanno molto del male all'avversario, o meglio, al suo mazzo, e in più immunizzate completamente i vostri amici. Scusate se è poco, eh? Scusate se è poco. Sera, che ci va comunque ad evocare Dionea, Main Face, utilizziamo la nostra bellissima terreno, andiamo a creare la Pinguicola, con l'effetto andiamo ad aggiungere un'altra Dionea, abbiamo utilizzato l'effetto di una Trapstix, vedete come noi andiamo a riempire il nostro terreno con carte che ci danno GG, immediato per contro l'avversario, Dionea di nuovo, effetto, andiamo a rimettere sul terreno Coramantis, andiamo quindi a creare, guardate anche artisticamente parlando quanto sono belle all'Omerus, assieme a Pinguicola, tanta roba, no? Questi sono i mazzi schifosamente ricchi degli over, cari ragazzi. Trovate tutti questi mazzi nel nostro gruppo dei campioni over, o anche nel nostro gruppo gratuito Telegram. Qualcuno potrebbe volere questi mazzi, molte persone ci dicono sempre, Anto, ma come faccio ad avere, proprio voglio a casa questi mazzi? Bene, noi abbiamo un servizio, guarda sotto in descrizione, guarda anche nel messaggio pinnato in alto, contattaci in tutti i social che vuoi, noi come team di Yu-Gi-Oh, come tutti i team d'Italia e del mondo, abbiamo dei raccoglitori, abbiamo molte carte, abbiamo tanti deck, e siccome prendiamo al giorno tantissimi mazzi, e alcuni possiamo anche darli via per supportare il nostro canale, per supportare soprattutto i nostri iscritti, che vogliono supportare il nostro canale, possiamo mandare i nostri mazzi, in più di voi, nel nostro gruppo esclusivo, dove hai il tuo allenatore dedicato, il tuo personal trainer, bla 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 bla, ovviamente, iscriveteci sui vari social, in modo da avere tutte le varie informazioni del caso. Ma adesso, guarda che cosa va a succedere, effetto di Allomerus, che va a staccare due materiali, e ci va ad evocare direttamente Dionea, andiamo ad evocare anche Ash, e tutto questo perché? Effetto del nostro giardino trappolatrice, distruggiamo Ash e special summoniamo un Traptrix direttamente, dalla mano al cimitero, di nuovo Mantis, guardate che bellissima scena, guardate il mazzo soprattutto come viaggia, e viaggia veramente alla grande. Ragazzi, tutto questo è tanta roba, eh, Battleface, attacchiamo con uno, attacchiamo con due, non dobbiamo neanche scomodare la nostra cularia, che va a proteggere, e va a far diventare molto più forti i nostri mostri, perché già tutti sono molto, molto devastanti. Quindi, questo mazzo che cosa va a fare? Oh, ma abbiamo questo intorno. Stupendo! È carino, signori, eh? Cioè, si muove insieme a noi. E chi cazzo ha detto che bisogna fare i video senza il cosetto? Veramente bellissimo, ragazzi, è incredibile. Allora, questo mazzo ti permette di godere alla grande delle trappole, e in più ti immunizza tutti i mossi sul terreno. Non da ultimo, non di meno, puoi andare a creare dei mostri molto potenti e molto potenziati, perché tu potresti dirmi, ok, ma c'è il problema che sono abbastanza scarichi di potenza e di attacco. Nessun problema, tu comunque vuoi andare a mettere tanti boss sul terreno che ti aiutano. Andiamo a vedere il secondo mazzo dei nostri deck, schifosamente fortissimi, di Yu-Gi-Oh! Il secondo mazzo che ti mostro è il Purely Kaiju. Questo è veramente un mazzo molto bello, perché ti concede delle sviolinate incredibili. Incredibili, è molto forte e hai la possibilità di mettere sul terreno tanta aggressività, pur con mostri immuni, che quindi ti proteggono in maniera importante e soprattutto che sono aggressivi e che quindi ti concedono di azzerare gli LP completi dell'avversario. Andiamo a vedere subito quello che succede. Allora, effetto di memoria sonnata, no? Vado a scartare, sono interrotto, vado ad evocare il nostro amico Purely. Ci permette di disotterrare le prime tre carte e aggiungiamo una spell trap, ok? Quindi siamo stati anche abbastanza fortunati, abbiamo preso il Purely salto, carta molto molto forte, adesso ovviamente vi spiego tutto. Vado a mettere ancora memoria sonnata, vado a scartare, evoco il secondo Purely, ok? Ancora effetto di Purely, non è once per turn, quindi vedete noi andiamo a disotterrare e ad aggiungere le carte che ci servono, una sorta di duality direttamente in campo. Ed è tanta roba se ci pensiamo. Io, 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 questi mazzi mi fanno, mi, mi, mi devo, no, ci permettono anche di essere abbastanza sbottonati con i video e soprattutto con le partite, perché sono molto molto forti. Allora, vado ad utilizzare la mia amica Purely e quindi ancora. Effetto, paghiamo 500, riveliamo tre carte Purely dal deck, eccetto essa stessa. L'avversario ce ne aggiunge una, noi ovviamente gli riveliamo sempre le stesse carte in modo che ci vada ad aggiungere memoria, grazie se è più lì. Ovviamente non ho bisogno di dirvi che tutti questi mazzi, tutte queste carte, cioè, non costano poco. Vedete i poteri che ci danno nell'economia del gioco, è tanta tanta roba. Comunque nel gioco si muovono anche cifre che sono anche abbastanza importanti, come è giusto che sia, eh? Assolutamente. E quindi, questo anche a tutte le persone, noi diamo per scontato di stare a parlare con duellanti, con budget, duellanti top 1%, persone di alto livello che vogliono investire seriamente in questa passione perché altrimenti, cioè, è anche un po' fallimentare vedere video di mazzi di alto livello senza poterci investire. Vabbè, ok, bene, però è sempre bene andarlo a ricordare. Così come dobbiamo andare a dire che, eccola qua, Purely paffuta. Perché abbiamo messo questa carta? Perché possiamo scegliere come perseguire fino a due magia trappola nei cimiteri ed attaccarla a questa carta. Fino a tre volte per turno, attivando una carta magia labbra da Purely, possiamo attaccare quella carta sul terreno a questa carta come materiale e bannare un mostro sul terreno fino all'end. Cominciate a vedere come funziona, no? Mostri Xyz che si pappano le carte magia trappola nel cimitero e che poi vanno a staccare gli overlay per andare a rompere le scatole all'avversario. Vedete? Uno a due, effetto, andiamo a quattro materiali, effetto di Purely, ok? Riveliamo una carta Quick Play Spell nella mano e se lo facciamo specialiamo un mostro Xyz che menziona questa dall'extra deck utilizzando una carta che noi abbiamo come materiale. Ed ecco qui la seconda Purely bellezza. Carte anche molto belle, certo della dimensione di un francobollo, ma che sono sicuramente molto interessanti. Una volta per turno facciamo uscire come un mostro con effetto controllato dall'avversario e non diamo gli effetti fino alla fine di questo turno. Fino a tre volte per turno, ragazzi, attivando una magia rapida possiamo attaccare quella carta sul terreno a questa e poi cambiare la posizione di un mostro sul terreno controllato dall'avversario. Scusate se è poco, abbiamo la trappola qui, effetto ancora... Ah, tra l'altro si potenziano, eh, per ogni carta che c'è sotto. Ok, quindi effetto, tra l'altro ci permette addirittura di andare a pescare e in più utilizziamo un Purely salto, ok? Quindi effetto ancora della nostra amica. Che cosa fa Purely salto? Scegliamo come bersaglio uno Xyz e quindi specialiamo dall'extra deck un Purely con rango diverso utilizzando quel bersaglio come materiale. Lo facciamo tornare nell'extra deck durante l'end face. Se trasferiamo i materiali, solo un mostro evocato. Ecco, soprattutto quel trasferimento è un percorso chiave per la nostra Purely Noir. Perché? Allora, intanto 2800 di difesa è ok. Ma è immune agli effetti attivati dall'avversario a 25 più materiali. Staccando due materiali da questa carta ci diamo come bersaglio una controllata dall'avversario nel cemitero e la mettiamo in fondo al deck. Scusate se è poco, eh, tra l'altro 4600. Ok, l'avversario mette cash tira, quindi evocazione speciale di ferrir. Effetto di ferrir. Utilizziamo immediatamente Purely Bellezza. Lo vorremmo andare a negare. L'avversario, bannando una cash tira archetipica dalla mano, va ad evocare il tieracrimalamenti. Quindi è negato ferrir. Effetto non succede nulla. Effetto di tieracrimalamenti. Quindi effetto ancora di Purely Noir, vedete? Direttamente nel mazzo. No problem. Scaricati tutti. L'avversario comunque evoca sai bestia molto molto forte. Banna un livello 7 per farlo diventare di livello 7. Ancora effetto di Purely Noir. Perfetto. Un face. Vedete? Controllato alla grande l'avversario. Quindi allora come possiamo definire questo deck che stiamo osservando? Un mazzo che mette dei mostri molto forti sul terreno e che controllano e che soprattutto possono dare degli attacchi molto pesanti. Adesso ovviamente vi faccio vedere come. Intanto se volerò sciocca di beni vado a mandare al cimitero, ragazzi. Qui possiamo utilizzare, attenzione, delle carte addirittura delle bestie arcobaleno, eh. Cioè delle bestie cristallo, tanta roba, eh. Perché l'ho mandata al cimitero? Perché bandandola ci permette di aggiungere una bestia cristallo o una carta magia terreno dal deck alla mano. Una carta magia terreno. Capite? Ok, effetto. Quindi aggiungo ovviamente il nostro amico cobalto più la carta magia terreno che mi interessa. Che non deve essere delle bestie cristallo, quindi è assolutamente bellissimo. Sono interrotto kaiju che bannato mi permette di addare un altro kaiju. Metto strada a randaggia. Effetto della mia amica piurli che mi permette di aggiungere, no? Le carte che voglio. Effetto di sono interrotto. Vi aggiungo comungus. E qui succede la magia. Perché? Effetto di memoria assonnata. Vado ad evocare piurli. Effetto di piurli. Vedete sempre di sott'erro le prime tre. Aggiungo quella che mi interessa. Cioè con questo mazzo noi abbiamo sempre accesso alle carte che vogliamo. Scusate se è poco. Scusate se è poco. Effetto di piurli. A questo punto vado a mettere su di lei e piurli felicità. Vedete? Tutti i monstrixis. Va bene. Siamo sensibili a barriera dimensionale. Ma noi ovviamente abbiamo intanto i kaiju. Ma abbiamo anche il side che è diverso. Chiaramente con il side stesso discorso. Contattateci. Eventualmente abbiamo i nostri gruppi gratuiti in cui potete trovare comunque del valore. Abbiamo anche il gruppo esclusivo dei campioni over in cui avete il vostro allenatore dedicato che fa il lavoro al posto vostro. Quindi veramente tanto valore che potete trovare. A questo punto ancora memoria graziosa. Attacchiamo. Che cosa va a succedere? Andiamo a giù. Abbiamo aggiunto un'altra carta. Piurli felicità ha serciato. Ok? Tanta roba eh. Rimettiamo memoria graziosa. Deliziosa scusate. Attacchiamo ancora. Vedete? Noi ci stiamo infliggendo. O meglio. Dei punti di felicità per andare ad avere sempre più carte. Vedete? Ogni volta che attacca aggiunge. Più mille. Effetto di pure di noir. E a questo punto possiamo attaccare. Cioè facciamo. Disponiamo dell'avversario come vogliamo. Tanta roba eh. Veramente tanta tanta roba. Quindi abbiamo ancora Zeus. Chiaramente in questo momento. Perché? Perché abbiamo attaccato con un mostro Xyz. Possiamo metterci lui. Il fatto di giocare con degli Xyz ci permette anche di avere molta felicità in questo. Parlando di memoria delicata. L'avversario va a mettere sul terreno. E' unicorno specialmente perché non controlla nessuno. Unicorno. Quindi effetto della nostra e più urli bellezza. Negato l'effetto. Ancora effetto. Non succede assolutamente nulla. L'avversario va a utilizzare. Astral Curib. Effetto di Zeus. Stacco due materiali. Via tutto. L'avversario a questo punto va a settare. Ancora utilizzo l'effetto. E tra l'altro al cimitero si è attivato più urli salto. Vedete? Bannato. Tanta roba eh. Veramente tanta roba. Vedete come siamo completamente in controllo del terreno. Di questo te ne puoi accorgere. Da un fattore molto importante. Guarda le carte che abbiamo in mano. Tu ti accorgi. Tu vai a indicare la potenza di un mazzo di Yu-Gi-Oh. Intanto da come ovviamente dalla performance. Ma dalle risorse che hai in mano nel momento in cui va a vincere. Quindi ancora più urli. Effetto di più urli. Vado sempre a dissotterrare le famose tre che ci servono. Ma non ci serve perché andiamo in battle face e andiamo direttamente a vincere. Quindi signori. Piurli sicuramente è un mazzo che per tanti potrebbe essere complesso. Sicuramente è un mazzo costoso. Ma così come tutti i mazzi di Yu-Gi-Oh più forti sono costosi. Di questo non ne facciamo mistero. Ormai non è più un tabù sul nostro canale. Le persone che ci seguono sanno che poco spendi poco appendi. E questo non vale solo con i Yu-Gi-Oh. Vale con le macchine. Vale con i droni. Vale con i vestiti. Vale con quel che ti pare. Ok? Quindi benissimo. Ma! Soprattutto abbiamo un mazzo molto molto versatile. Io ciò che voglio dare all'occhio con il nostro amico Piur. È che Purpur non sono solo le fusa del gatto. Ma anche la grande elasticità con cui questo deck può essere mischiato a tutto. E questa versione con i Kaiju te la consiglio tanto. E infatti nel gruppo dei campioni over la andiamo immediatamente a mettere. Perché credo che sia molto molto interessante da giocarci adesso. E adesso andiamo con il best deck del giorno. Signori con immenso piacere siamo con il mitico Alanera. Anche qui tanta complessità potrebbe esserci. Anche se basta che ci impariamo i mazzi di Yu-Gi-Oh e tutta la complicatezza la con... Tutta la difficoltà sparisce. Ma tranquilli perché vi spiego io ed eventualmente avete il nostro gruppo dei campioni over in cui c'è l'allenatore dedicato che vi spiega tutto. Anche mandandovi video deck. Tutto anche i video in cui vi fa vedere come vi spiega. Comunque. Evocazione di Sudri la quale ci aggiunge una carta che menziona Alanera. Soprattutto Weirwind. Che ogni volta che andiamo... Questa è una delle carte più forti Alanera ragazzi. Evocando normalmente un mostro Alanera sul terreno. Aggiungiamo dal deck alla mano un altro mostro Alanera. Quindi benissimo. Allora come funzionano i signori Alanera? Nel momento in cui ci sono delle bestialate sul terreno. Loro si evocano specialmente. Ed è il motivo per cui questo manzio è stato mistato molte volte anche con il Raider Raptor. Piuttosto che... Addirittura Seymour Galant. Ok. Andiamo a mettere il nuovo Weirwind. Cioè Vortice e Piuma Nera. Se evochiamo specialmente un mostro sincro scurità. Possiamo scegliere come bersaglio un mostro Alanera. O drago all'inerio e bandato nel cimitero. E lo evochiamo specialmente. Se un mostro scurità che controlliamo sta per essere risultato in battaglia dell'effetto di una carta. Rimuoviamo invece un segnale non più in maniera. Evochiamo quindi addirittura Notung. Effetto quindi di Shammal. Il quale ci fa rievocare sul terreno vata. Meno 700 a noi e meno 800 all'avversario. Vedete quanto il mozzo Alanera è bello perché è tanto creativo signori. Può sembrare difficile. Non lo è. Vi assicuro. E se siete nel gruppo dei campioni opera avete tutte le varie combo. Quindi benissimo. Normal quindi di Sudri. E Weirwind che ci aggiunge Armatand. Quindi affetto di Sudri. Che ci va a riaggiungere. Vedete Burrasca, Ombra Nera, tanta roba. Armatand entra specialmente. Effetto quindi andiamo ad evocare il Drago Synchro e Polveri di Stelle. Nel frattempo vata. Abbiamo tributato un mostro. Specialiamo un. Quindi andiamo ad evocare l'illusorio. Il Glimmer Token andando a mandare al cimitero Sudri. E nel contempo è arrivato il Drago Polveri di Stelle e Hatchel Synchron. Uno dei pezzi da 90 dell'ambiente Synchron. Che circolarmente è arrivato da noi. Quindi veramente ci fa evocare il Drago Polveri di Stelle. È un checkpoint veramente molto importante. Meno 700 a noi. E vada ad entrare di Spater. Molto forte questa carta. Sciamala la tempesta. Scelto come bersaglio da di Spater perché era stato bannato. Torna sul terreno. E quindi andiamo a fare Drago Cremisi. Effetto quindi del nostro amico. Che ci fa... Eccolo qua. Entrare sul terreno il Drago Liner. E questa Ultimate Ghost. È ancora stata ad un macello. Ed è molto giusto che sia così. Come Drago Cremisi. Considerando anche la combo che sto per farvi vedere. Ragazzi. Tanta roba. Veramente tanta roba. Quindi utilizziamo ancora Vortice Piuma. Adesso abbiamo. Intanto abbiamo mandato al cimitero, no? Vata. Avete capito l'effetto quale è stato, no? Mandato al cimitero. Ci ha permesso di evocare il Drago Liner. Perché il livello è il quale direttamente ad otto. Va bene? Quindi abbiamo mandato altri pezzi che insieme ci abbiano permesso la creazione sua. Effetto quindi di... L'abbiamo mandato al cimitero prima grazie a... No? Grazie al nostro amico Chinook. Effetto di Zephyros. Andiamo a mandare nella mano una nostra carta alla nera. Che possiamo comunque riattivare. Quindi la riattiviamo infatti. Allora. Effetto di Drago Cremisi. Lo andiamo a rimbalzare e facciamo entrare sul terreno un mostro sincrono. Il quale il livello sia uguale ad un altro grigione che abbiamo bersagliato con questo. Quindi entra Borreloth Savage. Che è una bellissima negazione. Effetto, no? Abbiamo evocato un mostro oscurità sincrono. E quindi andiamo a rievocare i mostri nel cimitero bannati. Ed ecco che entra anche il nostro amico maestro. Armatura completa. Che è immune agli effetti dell'altra carta. E mette segnalini sui mostri avversari. Può rimuovere i segnalini per andare a negare o a distruggere. Io direi che può andar bene, no? Abbiamo il porta vessillo degli alla nera. Omni negate. Mostro immune. Negazione. Abbiamo anche Burrasca che è forte. Altra negazione con Dispater. Scusate se è poco. E questi siamo noi, signori. Cioè questo è Antoshosteyover. Questa è la qualità che vedete con i nostri mazzi. Qui c'è l'iscriviti. Clicca sulla campanellina. Io credo che questi mazzi siano schifosamente forti, no? Io credo che siano voluttuarmente devastanti. Direi bene. Comunque vediamo l'avversario cosa fa fare. Qui l'unico modo per uscirtene da questa situazione è avere nella mano Sphere Mode. Ma anche avente Sphere Mode noi comunque rimarremo con un mostro. Ripartiremo qui con Bada. Poi avremo comunque le nostre negazioni. Quindi è comunque... Da calato di ramo, dall'età sfera è molto difficile. Allora siamo contro Drago Bianco. Quindi benissimo. Ci va ad aggiungere un mazzo molto forte. Quindi va a mettere... Attenzione. Pianto d'argento. Ok. Burrasca. Con l'effetto di Burrasca va a negare. Quindi attenzione. La melodia del Drago si risveglia. Scarta 1 ed aggiunge due Draghi Bianchi nella mano. In questo caso il Drago Bianco Alternativo. Ha mandato al cimetro la pietra bianca. Quindi ha mandato il Drago Bianco Occhi Blu. Mette saggio con gli occhi di blu. Benissimo. In permanenza infinita. Vedete? Non dobbiamo neanche scomodare i nostri amici. Rivela il Drago Bianco Occhi Blu. E quindi per condizioni di evocazione fa entrare sul terreno il Drago Bianco Alternativo. Anche questo ragazzi. Ma è forte. Veramente strabiliante. Effetto. Va a distruggerci. Burrasca. Bravo. Va a far entrare Drago Spirito Occhi Blu. Poi. Niente. Ok. Effetto al cimitero. Lui ce lo fa negare. Chiaramente. Benissimo. Effetto. Lui utilizza l'effetto di protezione del suo Drago Spirito. Fa entrare il Drago Aggetto Occhi Blu. Che ad ogni standby rievoca un Drago Bianco Occhi Blu. Cioè un mostro normale direttamente dal cimitero. Anche lui perché è considerato normale nel cimitero. E in più impedisce che i mostri di tipo Drago siano distrutti o bersagliati da effetti di carte dell'avversario. Quindi comunque vedete l'avversario bravissimo. Ma ci mettiamo contro mazzi che sono molto molto forti. Nessun problema. Borone dei fiori. Vedete? Restart. Attacchiamo un dispater. Distrutto. Attacchiamo. Attacchiamo. E attacchiamo. Abbiamo anche potuto avere il lusso di rinunciare al nostro amico Borrot Savage in modo da mettere i nostri amichetti. La versione lo fa entrare di nuovo Drago Alternativo. In permanenza. Negato immediatamente. Effetto negato. Ovvio. Bene. Ricominciamo. Ragazzi questi sono i nostri super mazzi. Ricordate a Yu-Gi-Oh si può giocare alla grande. Ma avete chiaramente bisogno di coach, di mentor. Io mi rendo conto che per persone che stanno ricominciando tutto questo può essere abbastanza difficile. Insomma. Non ha nessun problema. Adesso. Guardate che bellezza. Abbiamo fatto entrare anche il nostro amico Non-Shamal. Ma attenzione. Non blocchiamo tutto. Onimaru. Il divino Drago di Tuono. Ancora Notung. Con cui attacchiamo. Facciamo entrare anche Angelo del Caos. Con cui andiamo a distruggere. E con Dispater andiamo a riprendere dal cipitero dell'avversario. Quindi oltre al danno la beffa. Un suo mostro. Guardate signori come abbiamo riempito il terreno di boss. Veramente incredibili. Angelo del Caos. Strabiliante. Onimaru. Andiamola a vedere molto molto meglio. Il Tuono Divino. Una carattera che difficilmente si vedeva difficilmente. Parlando. Senza questa build. Ragazzi. Che dire. Insomma. Andiamo a mettere anche. Per non farci mancare nulla. Il nuovo supporto sincrono. Il Drago d'Assalto. Alineare. Tutto questo ragazzi. Potete averlo. È ottenibile anche nella vita vera. Sono tutte carte che ci sono nella vita vera. Chiaramente. È chiaro. Dipende che tipo di persone siete. Se volete solamente giocare a Yu-Gi-Oh! Sul Master Duel. Oppure volete semplicemente guardare. Oppure. Non siete due lanti che fanno per noi. Si può dire. Tranquillamente. Troverete valore. Sicuramente in altri casi. Se siete due lanti che invece vogliono giocare IRL con il meglio. Perché vogliono giocare la Champions League. Non ci siamo. Iscriviti. Clicca sulla campanellina. E noi ovviamente ci vediamo la prossima volta. Fammi salutare i nostri bellissimi iscritti. Nella maniera più assoluta. Si fa. Dai. Si può. So che tutti schippano questa parte. Però io ci tengo tanto. Quindi. Vi saluto. E vi incoraggio. Stay over. Stay over. Ci vediamo la prossima volta. Stay super. Mega. Iper. Oltre.